Un'auto per un altro sospettato, grazie. Esposito, aspetta. Non ha ucciso Victor, e se l'istinto non mi inganna, non è stato neanche Lewis. Quindi per la città c'è un sedicenne spaventato alle prese con una banda di criminali senza scrupoli. E Slotter può aiutarci a trovarlo. Non se ne parla, Castle. Slotter va in cella. Ma lui... E ringrazia se non ti arresto per complicità e favoreggiamento. Esposito, ti prego. No, Castle. Perdi tempo se insisti. Ryan. Ehi, quando arriva l'altra auto? Che diavolo... Scusa, scusa, non dovevo farlo. Cos'è successo? Castle ci ha rubato il sospettato. E anche l'auto. Cos'hai da ridere?